31 dicembre 2020, quasi un anno fa, ossia il 2 gennaio 2020, scrivevo questo post qui Si apre un nuovo decennio? Sappiamo che ogni viaggio inizia con il primo passo Come sarà questo anno appena iniziato? Poi abbiamo scoperto tutto quello che doveva ancora arrivare Ma soprattutto, quali saranno secondo voi le altcoin con la migliore crescita nel 2020? Scrivo alcune opzioni ma la lista è aperta a nuove aggiunte Il sondaggio dura una settimana al termine analizzare risultati in un video sul mio canale Questo è stato poi analizzato in un video che trovate nel canale qualche giorno dopo Ma interessante è ad oggi vedere qual è stata la proiezione o l'aspettativa di questo sondaggio verso il 2020 Quali erano state le monete alternative a Bitcoin, quindi le altcoin, Bitcoin escluso Che secondo la community sarebbero cresciute di più, quindi vediamo i voti Il primo dato interessante è quello del vedere che i voti sono molto più bassi rispetto allo stesso sondaggio Che ho appena riproposto che vi faccio vedere tra un po' I voti sono molto molto pochi, questo anche a testimonianza di quanta poca attenzione c'era solamente un anno fa in questo settore E quanta invece, quanto interesse ritrovato c'è in questo momento Ovviamente figlio del fatto che Bitcoin sta crescendo in una maniera spropositata Che ha colto qualcuno di sorpresa, qualcuno ha detto ai lavori magari un po' meno Anche perché da un po' che si parla di determinate cifre Quando poi arrivano sembra effettivamente una cosa incredibile Ma non è mai stata una cosa così nascosta soprattutto per chi fa questo lavoro Come lo posso aver fatto io ormai da diverso tempo E si parlava di una crescita a seguito dell'halving eccetera Ma questo episodio è dedicato alle migliori altcoin Come ogni mese ho iniziato a gennaio appunto 2020 Per ogni mese ho fatto l'analisi sulle migliori altcoin di ogni mese Lo trovate in una playlist dedicata sul mio canale Appunto andando in playlist Troverete le migliori altcoin di ogni mese Si inizia al 31 gennaio 2020 perché alla fine di ogni mese Troverete le migliori altcoin di gennaio, febbraio, marzo, aprile Addirittura qui avevo scritto Bitcoin in rally pre-halving Ecco le migliori altcoin di aprile Poi c'è stato l'halving, le migliori altcoin di maggio Quelle di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre Cioè quella di oggi Oggi è appunto le migliori altcoin di dicembre in teoria Ma in realtà questo video speciale sarà le migliori altcoin del 2020 Paragonandole con quelle che erano le aspettative che avevamo a inizio anno E non solo perché alla fine lancerò un nuovo sondaggio di questo tipo Cosicché proveremo a vedere quali sono i trend O vedere quali potranno essere quelle del 2021 Quindi state con me in questo video qui Ma partiamo subito Andiamo a vedere questo sondaggio Allora, la più votata dell'anno scorso Subito per partire appunto dalla più votata È stata Ada Cardano Con 71 voti Che in realtà sono veramente pochi Non è una crowd knowledge così elevata È stato l'interesse di pochi Perché effettivamente all'inizio dell'anno scorso Venivamo fuori da un periodo molto difficile Tanto che il pessimismo era percepito Era veramente un altro mondo Rispetto a quello che stiamo vivendo in questo momento E ve lo posso far vedere dai commenti Guardate alcuni commenti Come ad esempio questo commento qui Il sondaggio dovrebbe essere impostato sulla cripto Che avrà la minor decrescita E io rispondevo Troppo pessimista Ad oggi Ho scritto e commentato Mi auto-quoto Infatti il pessimismo era Veramente tanto Quel commento esplicito è una dimostrazione Ma in realtà la dimostrazione più palpabile Per me più concreta È vedere in quante poche persone Hanno partecipato a quel sondaggio In un gruppo che comunque già superava Abbondantemente i 4.000 iscritti Se non sbaglio Avere al massimo 71 voti E così tanta non partecipazione Era sinonimo di poco interesse Farò vedere quelli che sono i risultati ad oggi Di un post e di un sondaggio che ho appena creato Ma andiamo su CoinPaprica Dove ho praticamente iniziato tutto Tutta quella che è questa rubrica Delle migliori del coin del mese E da qui che cosa faccio Qui possiamo vedere una ranking Una capitalizzazione Cioè quindi una lista Per capitalizzazione delle varie monete Ovviamente Bitcoin è la più capitalizzata Quindi la prima La seconda è Ether Ethereum e così via Per vedere però Questa è tutta capitalizzazione Sul dollaro Quindi quanto capitalizzano in dollaro Per vedere però Quale moneta alternativa a Bitcoin Ha fatto meglio di Bitcoin Dobbiamo mettere Invece che in paragone col dollaro Dovremmo mettere tutte le monete In paragone su Bitcoin Quindi innanzitutto mettiamo Return rates su CoinPaprica Con return rates vediamo i ritorni Che ci sono stati Questo è sempre impostato sul dollaro Lo vediamo qui Praticamente Bitcoin Ha avuto negli ultimi 7 giorni un 24% Negli ultimi 30 giorni un 48% Tra parentesi Adesso se ci dovesse essere una flessione Visto che siamo vicini ai 30.000 dollari Per piacere Non andiamo in terrore In paura Perché è cresciuto veramente tanto Un 48% negli ultimi 30 giorni È sinonimo Prima o poi Di una correzione Detto ciò 175% Nell'ultimo quarter Ossia negli ultimi 3 mesi Assurdo Addirittura Quest'anno L'anno del 2020 Un anno critico Da tanti punti di vista Bitcoin ha fatto Rispetto al dollaro Bitcoin non lo possiamo paragonare Solo rispetto al dollaro Che è la riserva monetaria mondiale Le altre monete Possiamo paragonarle su Bitcoin Ha fatto un 299% Perché ho fatto questa rubrica? Per far capire Che effettivamente Le altcoin Hanno un potenziale Quando effettivamente Si crea un portafoglio Ben distribuito Il giochino Se andiamo a vederlo Solo dal punto di vista Speculativo Potrebbe essere quello Di andare a diversificare Un portafoglio In altcoin Per poter avere Una maggior crescita Del portafoglio Così da riversarla Su Bitcoin Questa è una strategia Che secondo me Negli anni Soprattutto quando ci sono Cicli importanti Di rialzo Avviene quasi sempre Sono quasi sempre Alcoin che Hanno una performance Migliore di Bitcoin Dal punto di vista Di controvalore O anche paragonati Alla crescita di Bitcoin Stesso Da quel punto di vista Si possono accumulare Sempre più Bitcoin Che è un po' L'oro digitale Che è sempre La moneta più scarsa Del settore Non so quanto potrà andare avanti Questo giochino qui Nel senso che Questo settore Pian piano viene scoperto Sempre a più persone Ancora siamo in pochi E fin tanto che Questo ciclo è ancora Semi sconosciuto Secondo me ancora funziona Chissà poi quale sarà Il prossimo ciclo Cioè parlo Dopo il prossimo Alvin Quando la cosa sarà Ancora più espansa Magari il discorso sarà diverso Però adesso Ha ancora senso farlo Soprattutto visto che Siamo secondo me Alle porte di un Al season Quindi di un Bull market Dove tante altcoin Quelle che hanno fatto meglio Che hanno costruito di più Che offrono tanto Potrebbero veramente avere Dei ritorni importanti Fare i loro 2 per 10 per 100 per Perché no È già successo in passato E secondo me Si ripeterà Per determinati fattori Ci metterei troppo a spiegarne Comunque In linea di massima È perché Ritornerà l'entusiasmo Anche dei retail E tutto ciò che è entrato Dalla porta principale Ossia da bitcoin Prima o poi nel tempo Verrà anche riversato Pian piano che si scoprono Le altre Le altri progetti Le altre alternative Anche negli altri progetti O nelle altre monete Altri token Altri servizi Perché c'è un fattore Un'attrattiva speculativa Molto alta Questo è il grande riassunto Quindi Invece di vederlo Rispetto a bitcoin Proviamo a mettere il tutto Con un metro Quindi con la misura Proprio in btc In questo modo Vedremo btc Che ha rispetto a se stesso Una crescita pari a zero Perché adesso non è più il dollaro Il metro di paragone Il metro di misura Ma è bitcoin stesso A questo punto È interessante vedere Quale moneta È cresciuta addirittura di più Ricordiamo sempre Da questo punto in poi Che bitcoin è cresciuto Del 299% Rispetto al dollaro E Le altre Se hanno avuto Una percentuale In verde Sono cresciute ancora di più Prima di vedere in assoluto Qual è la moneta Che ha fatto meglio Possiamo già vedere Dalle più capitalizzate E ricordo che è importante Vedere quelle più capitalizzate Perché più sono capitalizzate Più si abbassa il rischio Cioè Un conto è andare a mettere Non so Il nostro cippino Che è un cippino Poi La nostra scommessina Dipende dal nostro portafoglio Per alcuni Una scommessina Può essere anche 10 euro Per alcuni 100 Per alcuni 1000 Dipende da Quanto è grande il nostro portafoglio Tutto bilanciato E proporzionato Comunque Quel cippino Di cui si parla spesso La nostra chip Può essere stata messa Ad esempio Su una moneta A bassa capitalizzazione Sotto la top 100 Ad esempio Oppure in top 10 O addirittura sulla seconda Che è Ether Se si mette un qualcosa su Ether Ovviamente si rischia meno Rispetto a una moneta Meno capitalizzata Molte picose potrebbero andare storte Su una moneta Che non conosce nessuno Che non ha una community Eccetera eccetera Rispetto ad Ether Che non dico Che ha lo stesso rischio Più o meno di Bitcoin Ma non si distanzia troppo Se dovessimo pensare A una moneta A rischio Meno basso Tolto Bitcoin Probabilmente è proprio Ether Da questo punto di vista Vedere che Ether Ha fatto un 42% È il motivo per cui Rispetto a Bitcoin Cioè è cresciuta ancora di più È il motivo per cui Secondo me Ho sempre detto È giustificato Dal punto di vista Rischio rendimento Risk reward Rischio ricompensa Una allocazione Quindi una posizione Ecco diciamo Su Ether Tra l'altro Io qui sto facendo Un ragionamento Solo speculativo Quindi per chiunque Guardasse solo questo video Vi consiglio però Di approfondire Questi argomenti Perché ho fatto Veramente tanti video Qui questo è solo Un discorso speculativo Ma Ether non è una moneta Per fare speculazione Ether è il gas Di una virtual machine Ossia di una macchina virtuale Come se fosse un computer Che alimenta Tantissime altre applicazioni Ci sono applicazioni Decentralizzate Che appunto Girano Vengono eseguite Proprio su questa macchina E Ether è il suo gas Quindi la richiesta del gas È come quando si compra petrolio Un conto è fare speculazione Sul petrolio E andare a comprare petrolio Per fare dei gain Quindi in mercato Come se fosse trading E un conto è comprare petrolio Perché abbiamo una barca E dobbiamo metterci dentro O una raffineria E dobbiamo creare Della benzina Sono due discorsi diversi E al momento Questo mercato Inutile dirlo È molto più Si muove molto più Per la speculazione Che per l'utilizzo reale Ma ad esempio Se andiamo a vedere Ether C'è anche tanto Utilizzo reale A differenza di tanti altri progetti Che sono al 99% Speculazione Qui non vi so dare Una percentuale su Ether Quanta è la percentuale Speculativa E quant'è la percentuale Di utilizzo reale Ma siamo su percentuali Migliore di tutti Gli altri progetti Questo è sicuro Per questo il rischio È più basso Questa è veramente Un'analisi molto veloce Però qui parlerò Solo di speculazione E dal punto di vista Speculativo Un 42% Con un rischio moderato È un ottimo risultato Come si era posizionato Nel nostro sondaggio Ether Effettivamente Ether Non era poi così bassa Perché era stata votata Con Alla quarta posizione Quindi Aveva raggiunto Il quantitativo di voti Tra i più alti Anche se A ridosso di monete Meno capitalizzate Ad esempio Come ADA Cardano EOS Chainlink È sempre interessante Vedere come Effettivamente Le monete Che hanno Scopo di essere Una piattaforma Decentralizzata Per l'esecuzione Di applicazioni Decentralizzate Abbiano la tendenza A ricevere più voti O più interesse Dal punto di vista Di crescita futura Infatti in questa classifica Se vediamo Simil Ether Simil Ethereum Troviamo Cardano Troviamo EOS Troviamo appunto Ethereum Troviamo Tezos Troviamo NIO Troviamo Tron E poi a scendere Insomma Tante di quelle più votate Sono spesso Monete Che servono Per mantenere in piedi Una blockchain Non sempre una blockchain Ma un servizio Decentralizzato Per le esecuzioni Di DAP Questo è un trend Che ho visto più volte Ovviamente qui In molti Hanno All'inizio dell'anno scorso Hanno sottovalutato Il potenziale Della DeFi Sul discorso Occhio ai trend È importante vedere i trend Per capire quali sono Le monete che cresceranno In più è il trend DeFi È il trend che sta arrivando Però non è stato preso Troppo in considerazione Altrimenti Ether E Ethereum Sarebbe andato più in alto Non poteva essere Altrettanto per Cardano Perché Cardano Ancora deve inserire I smart contract Ad oggi Un anno di distanza Ancora non ha Lo sviluppo per i smart contract L'anno 2020 È stato per Cardano Quello dell'inserimento Del consenso distribuito In proof of stake Con Shelly Ad esempio Questo discorso Si sarebbe invece potuto sviluppare Su EOS Abbiamo visto che invece A livello di sviluppo Il tutto si è creato Praticamente la DeFi E si è creata E si è sviluppata Praticamente quasi unicamente Su Ethereum Per diversi motivi Ve ne dico uno su tutti Ad oggi Se si lancia un progetto Con un token È molto più semplice Andare a fare un listing Su un Uniswap Di turno Piuttosto che andare a pagare Un sacco di soldi Per essere listati Su un exchange Con il rischio Che poi si vada Ad attirare L'attenzione dei regolatori E quindi magari Essere anche aditati Come security O altri discorsi Quando invece il lancio È in modo decentralizzato Non vuol dire che non si possono Perseguire da certi punti di vista Ma è tutto molto più semplice Molto più snello Ed ha molta più liquidità Essendo la liquidità Ad oggi Quasi tutta su Ether E anche grazie A Stablecoin Le più sviluppate Come USDT USDC Sono principalmente Token su Ethereum Allora la maggior parte È la liquidità Come token su Ethereum Questo ha permesso Tutto un certo tipo di mercato E quel famoso Effetto rete Network effect Di cui parlo tanto E effettivamente Crea questo ciclo Dove piove sul bagnato E se si deve creare Ad oggi Se io dovessi creare una DAP Dovessi listare un token Lo farei comunque su Ethereum Anche se Il suo motore Magari va più piano Rispetto a un altro motore Che può essere Non so Tezzo Seos Cardano Cardano neanche potrei farlo Al momento per esempio E preferisco farlo su Ethereum Perché so che C'è mercato Perché so che c'è sviluppo E il tutto Poi può andare anche a progredire Nel tempo Questo è il ragionamento Che si fa E che fanno tutti Quindi è un dato di fatto È inutile poi Parlare troppo Su quello che non è O sui se O sui ma È così che funziona Bene Andando più in basso In capitalizzazione Troviamo appunto Anche Cardano E Cardano Nella top 10 Effettivamente È quella moneta Tra le tante Dopo Ethereum Tra quelle più capitalizzate Che ha fatto La performance in verde 37% Vediamo in un anno Rispetto a Bitcoin Quindi Se dovessimo sempre Ricordo Ragionare in USD In dollari Allora avrebbe fatto Un 448% Cardano Nel 2020 Che è un ottimo risultato Ricordo che c'è stato Il lancio di Shelly Il passaggio a proof of stake E quindi comunque Tanto entusiasmo Una cosa che si aspettava da anni Che era stata annunciata E che si aspettava da anni Un'altra moneta Votata Comunque molto in alto Nel sondaggio Dello scorso anno È stata Chainlink La terza più votata E Chainlink Ha fatto una scalata A livello di capitalizzazione Uno dei progetti più Utilizzati Proprio Nell'ecosistema Perché Chiunque invece Si occupi appunto Di DeFi Deve comunque avere Un allaccio Con il mondo reale E al momento Chainlink È il leader Da questo punto di vista Che fa Un ulteriore 60% L'anno poi di crescita mostrosa È stato quello precedente Nel 2019 Fece dei numeri incredibili Nonostante tutto Si dimostra ancora in crescita Perché fa un 60% Anche nel 2020 Rispetto a Bitcoin E qui siamo appunto Nella top 10 La top 10 Si chiude appunto Con Chainlink Quindi nelle 10 Quindi nelle 10 più capitalizzate Abbiamo come campioni Nelle real coin Ether Con Ethereum Che fa un 40% circa Un 37% Lo fa Cardano Un 60% Lo fa Chainlink In più rispetto a Bitcoin In pratica Si può tradurre Ci ha fatto guadagnare Mentalmente Ancora più Bitcoin Se dovessimo convertirne Se avessimo comprato Inizio anno E venduto Cioè cambiato in Bitcoin A fine anno Avremmo avuto ancora più BTC Adesso in questa lista Alcune volte Qui su CoinPaprica C'è un Prendere alcune monete Con Una supply Che in altre liste Non viene considerata Ad esempio Il caso X Qui vediamo Un più 1600% X è una moneta Che è cresciuta tantissimo È un token Che è cresciuto tantissimo Ha tutto Un suo progetto particolare Però in altri In altri Servizi come questo Ad esempio CoinMarketCap X Si trova alla posizione 203 E non 14 Perché viene considerata Una car Una market cap diversa La supply La circolazione in supply È calcolata In modo diverso Per prendere un altro riferimento ancora Su CoinGecko La cap di mercato Non è neanche dichiarata Non si sa bene Però perché L'offerta in circolazione Non è chiara Quindi in base a come si considera Effettivamente il circolante Moltiplicato per il prezzo Si ha una capitalizzazione Qui lo moltiplicano Al suo pieno E raggiunge valori Molto alti In realtà io tenderei Un attimo a toglierlo Proprio perché Due su tre Dei più grandi Non considerano X Con questa capitalizzazione Con questo circolante È un progetto Che rimane sempre molto dubbio Comunque Se dovessimo prenderlo così Con i dati che vediamo Tra le più capitalizzate Sarebbe quella che è cresciuta di più Io passerei in realtà Poi più in basso Qui già cominciamo a vedere Un indizio Che tra l'altro È la moneta È il token Che è cresciuto di più Quest'anno Detto ciò Detto ciò Torniamo un pizzico Al sondaggio E vediamo Abbiamo visto Quindi Cardano Che qualcuno Aveva detto Tra le più cresciute È stata tra le più cresciute Se consideriamo anche Il poco rischio Che c'era Quindi bene La community Ha confermato Un giudizio giusto Anche se poi magari È cresciuta meno di altre Però ci siamo Chainlink Stessa cosa Ethereum Stessa cosa Tezos V-Chain Ripple Un po' di meno Soprattutto XRP Nessuno poteva prevedere E questa è la potenza Anche nell'analisi fondamentale Nessuno poteva prevedere Quello che sarebbe arrivato A fine anno Questa botta Data dalla SEC E tutto quanto Poi abbiamo altri Altri token Come ad esempio CRO In cui tanti Hanno partecipato Qui È una moneta Che deve essere vista Come un token Ancora non deve diventare Una moneta CRO ad esempio Non ha fatto una performance Migliore Rispetto a Bitcoin La troviamo più in basso Eccola qui Rispetto a Bitcoin C'è un meno 56% Ricordando sempre Che invece Rispetto al dollaro In un anno Anche CRO È cresciuta di più Però per dire Per considerarla Una delle migliori Altcoin Dovrebbe aver fatto Un meglio di Bitcoin È sempre stato Un buon investimento Se paragonato Al detenere dollari Perché se uno Un anno fa Aveva messo dei dollari In CRO Cosa sbagliata Perché CRO Un token Di utilizzo Di servizio In generale Parte il fatto Che poi C'è tutto lo staking Quindi magari Se ne è accumulati Di più Eccetera Eccetera Ma se Andiamo a vedere Solo il prezzo Rispetto al dollaro Guadagnato Rispetto a Bitcoin No È questo che Bisognerebbe Utilizzare Come ragionamento Bisognerebbe guardare Queste cose Poi ci sono monete Addirittura Che hanno una performance Nulla O comunque Risultano a zero Nell'anno Perché sono arrivate Dopo Non hanno Un anno intero Di storico Ad esempio Unico Il suo airdrop Oave Che è stato Cambiato Diciamo Dai vecchi land Aave Però Ave È una moneta Cresciuta Tantissima A sua volta Diciamo che Poi alla fine Le monete Che hanno sviluppato Di più Che hanno dato Di più A tutto l'ecosistema Sono state Quelle più Premiate Quindi Il trend Forte Di quest'anno È stato Indubbiamente La DeFi Chi ha fatto Di più In DeFi Ha avuto Il ritorno Maggiore E lo possiamo Vedere E DeFi Ha portato Con sé Un effetto Collaterale Direi Che per chi Non si muove Con disinvoltura Anche perché Chi conosce bene Chi si sa muovere Con disinvoltura In maniera sciolta In questo settore Magari Sono poche persone In realtà Al mondo E quindi Non tutti Si trovano A loro agio Nel muoversi Con wallet Non custodial Non hanno ancora Raggiunto Quello livello Di sicurezza E si preferiscono Muoversi tramite Servizi Servizi Spesso centralizzati Quindi in parallelo Alla DeFi Un altro trend È stato quello Dello scoppio Delle piattaforme In SeFi Centralized Finance Finanza centralizzata Piattaforme Che abbiamo visto Come le spesso nominate BlockFi Celsius Appunto Crypto.com Ed altre Che operano In questo modo qui Nexo Infatti Se andiamo a vedere A parte BlockFi Che non ha un suo token Se vado a mettere Qui il ranking Disposto Con L'ordine In percentuale Con le monete Che sono cresciute Di più In quest'anno Il token Che è cresciuto Di più Rispetto a Bitcoin Come Alcoin Che ha avuto Una percentuale maggiore È stata appunto Cell La moneta di Celsius Seguendo proprio Il trend Della DeFi È stato il token Che ha coperto L'anno Che ha saputo Anticipare quel trend Creando un servizio Centralizzato Che ha agevolato Tanto Tante persone Ha impattato molto Ha dato molto Ed è cresciuto Anche tantissimo Un 858% Per tutti i detentori Di Cell Un ritorno Stratosferico Impensabile In qualsiasi altro Settore della finanza In qualsiasi altro Settore finanziario Se andiamo a vedere Ad esempio Il sondaggio Nessuno Aveva Citato Cell In questo sondaggio Qui E attenzione Neanche io Neanche io Avevo messo Cell Aggiunto alla lista E non l'avrei votato Quindi non avrei E qui sono stato Anche poco lungimirante Nel pensare Ok un token Che sfrutta Il trend Decentralizzato Però lo fa In modo centralizzato Potrebbe prendere Molta scia Molto utilizzo Beh era un passaggio in più Ad oggi sembra logico Ma non era poi così scontato Tanto che nessuno di noi Lo ha visto l'anno scorso Una moneta che aggiunsi io Era come vi ho detto In qualche video fa Synthetix Anche questa prese Pochissimi voti Synthetix Eccola qui La troviamo tra le più cresciute Perché rispetto a bitcoin Ha fatto comunque Un più 56% Ma il punto di Synthetix È che è stata la moneta Che ha riconosciuto Un ritorno sullo staking Più alto di tutti Parliamo di percentuali Incredibili Ogni mese Non ricordo se Veramente si arriva Veramente a dei ritorni Molto molto alti In percentuali Dello staking di Synthetix Quindi avendoli lì Se ne creano sempre di più E in più cresciuta ancora di più Rispetto a BTC Quindi Quella moneta È stata molto interessante E il settore derivati È un settore È il mercato Quello dei derivati Nel mondo della finanza Che ha più liquidità In assoluto È quel settore Ancora più dell'immobile I derivati Praticamente hanno Una scala Un quantitativo Di liquidità enorme Se questo Si dovesse ripetere Anche pian piano Ovviamente Nel settore crypto Quei progetti Che sviluppano Sviluppano E si muovono In quel senso Lì hanno un futuro Rosio A prescindere Però lo dobbiamo far bene Non è una cosa semplice Synthetix Si è mosso In quella direzione Guardando la lista C'è questo Champion Che io personalmente Non conosco Anche questa è una moneta Di quelle che solo su CoinPaprika Si trova in questa posizione Quindi La escluderei un attimo La filtrerei fuori L'ho già controllata Anche su CoinMarketCap E su CoinGecko Non si trova Posizione 74 Non l'avevo mai sentita prima Invece abbiamo già conosciuto Tra l'altro per tutte queste monete Che nomino Se scrivete appunto Sul canale O su Youtube Il nome di questa moneta Con a fianco Tiziano Troverete il video Dove io ne ho parlato E spesso e volentieri Ho fatto l'analisi In uno degli episodi passati Delle migliori altcoin del mese Quindi magari ho parlato Di SwissBorg Non so adesso Che è stata la migliore moneta Di agosto Potrei dire una stupidaggine Non ricordo quale mese Agosto, settembre In quel mese lì Anche dalla playlist Lo si trova in modo semplice In realtà Eccolo qui Best crypto di giugno SwissBorg Errand Ave Di Viren Facevo una preview Già dalla copertina E dal titolo SwissBorg mi sembra Fu la migliore moneta di giugno E non solo A quanto pare SwissBorg Se togliamo Celsius EX Che qui ha una capitalizzazione strana Un ritorno stratosferico Ma è tutto calcolato In modo strano È la seconda moneta Più cresciuta Anche qui È un servizio Un token Che si appoggia Su una app Che serve per Comprare in modo semplice Da fiat A crypto E che consente di avere un wallet Adesso consente anche di fare Farming E in qualche modo Finanza centralizzata Anche quel trend lì In quest'anno Il token è cresciuto Del 578% E considerate che questa Era un ICO del 2017 Quindi anche per dire Perché quante volte abbiamo sentito Tutte le ICO del 2017 Sono state scam In realtà La realtà dei fatti È che le ICO Sono state in tante scam In tanti progetti falliti Però come avviene Con le start up Il 95% Delle start up Fallisce 5% Ha successo Come in tutto il mondo Però La parola ICO È stata associata Veramente A delle cose terribili A quanto pare Non è proprio così Non è veritiero Tanti di questi servizi Che oggi vediamo Che utilizziamo Vengono proprio Da quelle ICO del 2017 Poi siccome la maggior parte Della percentuale È andata male Ha dato tutta una brutta nomea Al settore Ma è proprio come investire In start up in realtà Era anche un po' troppo semplice Proporre la vendita di token Questo è chiaro Ad oggi non è più così semplice Anche se Con exchange decentralizzati In realtà Non è che ci sia Però almeno c'è già il token Prima si vendeva Ancora prima di rilasciarlo Poi abbiamo Teta Anche Teta Mi sembra Non presi tanti voti Eccolo qui Un voto addirittura Ed era una moneta Che anche qui Aveva aggiunto io in lista E aveva preso solo un voto Zillica Aveva preso solo un voto E Zillica è stata anche Essa una delle monete più cresciute Quindi vediamo Teta Zillica Anche perché Zillica Come altre monete Adesso senza dilungarmi Oltremodo Ho già fatto tutte queste analisi Mese per mese Con monete come Errand Che poi qui Non troviamo perché Errand Ha avuto un passaggio In i gold Perché se dovessimo considerare I gold Qui non lo vediamo In tutto l'anno Quindi c'è anche questo aspetto I gold è stata una delle monete Che è cresciuta di più Con Errand Quindi tutte queste Diciamo anche alternative Se vogliamo ad Ethereum Perché tutti nascono Come un po' come Ethereum killer Io vi ho detto già la mia Secondo me il mondo sarà In futuro interoperabile Di questo mondo cripto Quindi in progetti come Polkadot Che a me piace molto Che andranno a creare Delle connessioni Tra il mondo E la DeFi creata su Ethereum Ad esempio Per fare scambi lì Poi magari con un bridge Si va su altre blockchain Che prestezionano meglio Questo aumenta Questa aumenta l'efficienza Di tutto l'ecosistema E anche l'interoperabilità E gli scambi Da l'una all'altra Fantastico proprio E decentralizza ancora di più Se andiamo a vedere Diminuisce anche il rischio Da certi punti di vista Zillica È molto simile Ai gold O al progetto Errond Hanno Infatti sono molto conflittuali Le due E le due community Anche non si vogliono Troppo bene E poi tanti altri progetti Simi come appunto Ho detto Cardano E magari anche Polkadot Anche se però Poi ha una visione Un po' diversa I progetti nati su Polkadot Qui non hanno ancora Un anno intero Polka Starter Oppure progetti come Uniswap Che è un po' La stessa cosa E Uniswap Nato su Ethereum Come protocollo Ha una vita più lunga Ma il token UNI è stato airdroppato Durante quest'anno Quindi non ha uno storico Di un anno Ecco qui Vediamo Abbiamo una visione Ma non è una visione Ovviamente completa Di questa cosa qui Poi ci fermiamo appunto Qui in basso Dove allo zero C'è Bitcoin Perché appunto È quello Il paragone Qui ci sono La maggior parte Delle monete Le potete vedere Da voi Questo è reso conto Di quest'anno E questo è stato appunto Quello che è stato Il trend rispecchiato Dalle monete Che sono cresciute di più Qualcuna è arrivata Durante l'anno Come ripeto Che non viene visualizzata Abbiamo visto però Su un trend che potrebbe arrivare Poi più o meno Se riusciamo ad indovinare Il trend Ah potrebbe anche essere Un trend vecchio La DeFi secondo me Non è finita Qui non è stato solo Il 2020 Ma sarà anche quello Del 2021 Questa è la mia idea E i trend che vi posso annunciare Ma poi li vedremo più avanti Perché Fatemi finire questo concetto Adesso vi dico Io vedo Intravedo tre trend Principalmente Che sono Interoperabilità Perché la DeFi Ha creato le basi Ma dovrà essere interoperabile Su diverse blockchain Quindi DeFi Interoperabilità E collezionismo Legato a NFT E magari anche il mondo Videogame NFT Questi sono tre bei trend Però lo approfondirò meglio E quando Proprio come ho fatto In quel sondaggio L'anno scorso Ho creato Lo stesso sondaggio Questa volta A nome Coin Square E l'ho fatto Ieri Quindi un giorno prima Della fine dell'anno Per avere tempo Di accumulare voti Quando questa lista Sarà nuovamente completa Farò un nuovo video Questa volta Il video non sarà Sul passato Ma sarà analizzando Questa lista E commenterò Quelli che sono stati i voti Per cercare di avere Una visione Per quello che potrà essere Il 2021 Cosicché Grazie al Crowd Knowledge Ossia la conoscenza Di gruppo Possiamo andare Più o meno A individuare Dei progetti O dei trend E cominciare A eventualmente A avere una strategia Anche di portafoglio Con l'idea Che ricordo Avere un portafoglio Che sia bilanciato E distribuito In modo tale Che se c'è qualcosa Che cresce più di Bitcoin Non abbiamo la possibilità Di aumentare Il nostro quantitativo In Bitcoin Che è l'oro digitale Quello che dovremo Sempre puntare Ovviamente Tanti altri Come detto all'inizio Questa è solo Una antica speculativa Ma tante di queste cose Non servono per fare Questo lavoro Quasi tutte Non nascono Per questa idea qui Ma nascono in teoria Per utilizzare determinati servizi Però io qui ho fatto Una premessa Che è quella Ok oggi parliamo Solo in modo speculativo E dal punto di vista Di portafoglio Quindi ho creato Questo sondaggio Lo trovate nel gruppo Coinsquare Per votare su questo sondaggio Dovete essere Nel gruppo privato Coinsquare C'è la pagina Poi c'è la richiesta Per accedere al gruppo Lascio i riferimenti Comunque in descrizione Questo gruppo Al momento conta Qualcosa come più Di 5.000 persone E già vediamo Quindi non troppe di più Rispetto all'anno scorso Ma già vediamo Che differenza Rispetto ai voti Di un anno fa Già il più votato Che questa volta è Aether Al momento Ha 162 voti E la seconda Ha già più voti Della prima dell'anno scorso E vedo che a molti Piace Dot E Polkadot Devo dire che effettivamente Come dicevamo in live Qualche tempo fa Polkadot piace un po' a tutti E perché Mette un po' d'accordo tutti Poi in tanti vedono Appunto ancora Ada Ha perso due posizioni Rispetto alla più votata Al momento Poi però queste Sono solo momentanee Perché adesso Qui Lancio l'appello Votate Perché c'è una settimana Di voto Su questo sondaggio Al termine del quale Farò un'analisi Sulla più votata E vediamo le proiezioni Per il 2021 Con questo Visto che è l'ultimo dell'anno Questo sarà In tutti i casi L'ultimo video Di quest'anno Bitcoin Ha 29.000 dollari Molto vicino ai 30 Una capitalizzazione Che sale Penso che ci ha fatto Un po' tutti contenti Quanto meno del nostro settore Come ho detto anche in live Su CoinSquare Con tutti i Crypto Avengers Così rinominati Dalla community stessa Bitcoin è forse Stata l'unica Nota Lieta Piacevole Di questo 2020 E allo stesso tempo Attenzione Perché quando Bitcoin Sale tanto È stato creato Per questo Vuol dire che qualcosa Dall'altro lato Quel mondo che abbiamo Conosciuto per tutti Questi anni Comincia a scricchiolare Un po' Fa strano dirlo Ma ci vediamo Nel 2021 E vediamo che prospettive Ci saranno Intanto Buon fine di anno A tutti Auguri Per un anno nuovo Probabilmente Il prossimo video Sarà al 2 O al 3 Gennaio Poi ripartiranno Le live su CoinSquare Eccetera eccetera Stanno arrivando Tantissime cose Anche perché L'entusiasmo È palpabile Non solo da parte mia O di noi Addetti ai lavori Ma di tutti coloro Che hanno interesse E che questo nuovo Ritrovato interesse Verso una Bullrun O bull market Bullrun ormai su Bitcoin Penso che Nessuno abbia più dubbi Quando Non dicevo solo due mesi fa Qualcuno ancora Ne aveva dubbi Oggi non ci sono più dubbi Sulla bullrun di Bitcoin Ma il bull market Che magari potrebbe arrivare Ossia un rialzo importante Per tutto Il settore al coin Quindi l'alt season Che secondo me Ha delle buone probabilità Nel 2021 Vedremo Ovviamente Posso sbagliare Ho sbagliato tantissime volte Solo chi non si esprime Non sbaglia Grazie ancora Tanti auguri Ci vediamo nel 2021